I dati sono allarmanti, 6 milioni di nuovi poveri, che si aggiungono a 6 milioni di cittadini italiani in povertà assoluta, quindi siamo a 12 milioni di poveri, dati allarmanti che ci impongono di fare squadra. Tanti imprenditori illuminati, tanti movimenti cittadini, tante associazioni che cosiscono il vero ammortizzatore sociale. Però io mi chiedo qualche volta, dove sta la politica? È un immito alla politica perché persone in grado di stare assieme, persone di capire questo problema come Nicola, siano la luce della nuova politica. La politica è fatta di sentimenti, non è fatta solo di schede. Volevo ringraziare tutti i pazienti, volevo ringraziare Nicola per questa grande sensibilità, per questa grande umiltà. Vai avanti sempre così, coraggioso, non aver paura di essere nella difficoltà, risorgerai solo pensando alla cosa più bella, essere umili, amare il prossimo. Signori, queste sono veramente parole toccanti, perché vi vedo anche io un saluto e un abbraccio dal dottor Guagliello, che veramente queste parole qui ci fanno capire veramente il senso della vita, veramente, veramente. Una delle poche persone che mi tocca sempre il cuore è Angelo. Io ho fatto una promessa, non so se Angelo se lo ricorda due anni fa, prima di fare questa scelta di scendere in campo, sono anni che mi prodigo nell'associazionismo. Abbiamo fatto un sacco di eventi benefici, ma concreti, dove tutto quello che raccogliamo, anche un briciolo, lo diamo veramente a persone che sono meno fortunate di noi, credo che ho detto. Feci questa promessa che metto il mio talento, il mio servizio, quel poco tempo che ho, a disposizione del prossimo, e anche in politica. dissi solo che quello che faccio non lo dimenticherò mai, lo continuerò a fare, quindi la politica oggi, attualmente, la metto a un lato, perché quando parliamo di sociale, quando parliamo di solidarietà, quella sta sempre a un lato. Nico Civita è qua, presente, mantiene quella promessa e fin quando la provo, le mie forze la manterrò sempre. Grazie a tutti, un buon spettacolo a tutti. Ragazzi, questo è veramente la vostra toccante, perché abbiamo toccato un tastino veramente che riguarda tutti. Ringraziamo ancora il nostro... Benissimo, signori, veramente da parte di tutti quanti noi, grazie di cuore della vostra presenza, veramente grazie. Stai facendo un video? Benissimo. Continuate con un applauso per te, gli stai, il copinello. Ecco, salutiamo anche io, amata, salutiamo anche loro, salutiamo, benissimo. Signori, questi sono piccoli fatti che...